Un salutone e un abbraccione dal vostro Italo FIFA Gamer, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di calciomercato, è ufficiale, Baba Yoko è un nuovo giocatore del Milan, domani lunedì ci saranno le visite mediche, la notizia è stata pubblicata pochi istanti fa dalla gazzetta dello sport e dall'anno detto in diretta a Sport Italia, l'operazione prevede il prestito e il riscatto l'anno prossimo per 40 milioni di euro, quindi il 23enne centrocampista ex Monaco, ex Chelsea sarà il nuovo colpo per il centrocampo del Milan che si rafforza ulteriormente ragazzi dopo l'arrivo di Caldara, di Higuain, di Reina, con questo colpo il Milan diciamo che è a posto anche se potrebbe fare un esterno ancora a centrocampo, si fanno i nomi di promesse. Poi un'altra notizia, vi do pure un'altra notizia di poco fa, Zonzi è sempre più vicino alla Roma e adesso si fa un nome, un nuovo nome, non è un nuovo nome, già è stato accostato alla società giallorossa di Tawin, il giocatore francese all'esterno destro, questo ci sarebbe un tentativo in extremis della Roma, Monchi in questo momento è a Siviglia per chiudere l'affare per Zonzi. Ragazzi allora Baka Yoko è ufficiale, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, io vi dico sempre ciao, miau, bau belli, a chicchi, ciao, queste sono le bombe di Italo, ciao!